Diciamo che sei riuscito a staccare tutti e a vincere dopo un tiro in molla con il 102 che non mi ricordo di ogni. Sì, è a Tiberi che ha infiammato la corsa prima della salita e in salita ho cercato di resistere ai suoi attacchi, sapevo di essere più veloce in volata e a 150 metri ho fatto la volata e ho vinto. Quindi è stata una gara difficile oppure? Sì, come l'anno scorso i primi 90 km sempre tirati vicino a 50, poi siamo arrivati alla salita che è una bella salita con pendenze dure, adatta a me e nulla ce l'ho fatta. Sì, è stato in secondo posto, molto combattuto, è stata una gara molto dura fin dall'inizio, ho voluto molto sostenuto e prima della salita io ho provato a fare un allungo e sono riuscito ad andare in fuga, siamo rimasti in tre e ho preso un po' di vantaggio, però dopo poco dell'inizio della salita il gruppo è rientrato e poi siamo andati abbastanza regolari in un tratto, poi sono iniziati gli scatti e alla fine siamo rimasti io e Crescioli e niente, poi ho provato a fare altri allunghi però dopo è rimasto sempre nella mia ruota e poi in volata mi ha abbattuto.